E mi hanno portato alla cosa, alla disperazione. 51 mila immobili, non due cose. E adesso questo si vuole approfittare di tutto il mio patrimonio. Dramma sociale a Olbia, dove un ex imprenditore d'Ile tenta di salvare il salvabile, la villetta di Campagna dove abita con la moglie malata. L'immobile rischia di essere pignorato. Travolto dai debiti Pietrino Sanna, 83 anni, lotta contro tutti. Una vicenda che si trascina da 25 anni e sembra ancora lontana dalla conclusione. Opposizione allo sfratto davanti all'ufficiale giudiziario e agli agenti della polizia, intervenuti in località Sud Rambucone. L'uomo ha perso un patrimonio superiore ai 10 miliardi di vecchie lire. Anche ai figli potrebbe essere portata via la casa. Giustizia, chiedo, su giustizia. Perché ho ragione. Un appello al procuratore della Repubblica di Tempio? No, diciamo che è meglio lasciarla, perché sono notato tre volte per questo fatto. Ha detto mi dia tempo, mi dia tempo di esaminare il fascicolo, solo quello. Allora devo lasciarla lavorare in pace, capito? Eravamo già al rinvio. Adesso c'è una battuta d'arresto, eravamo tutti d'accordo, ma il creditore procedente pare che di no. Insieme all'avvocato si raggiunge un accordo, i tempi si allungano, ma entro 40 giorni si dovrà trovare una soluzione. Non me ne vado da qui, dichiara il figlio Giuseppe, piuttosto mi incatteno alla bombola di gas sul tetto e mi faccio saltare in aria.